A queste cose sicuramente non avete pensato Tantissime volte vi ho detto che il fatto di fare danza sicuramente sviluppa tantissime capacità a livello fisico in maniera completa ma non abbiamo parlato di quelle capacità invece mentali che sviluppa la danza o comunque che sviluppa ogni appassionato di danza che la danza permette di sviluppare insomma a qualunque livello voi la studiate Detto ciò andiamo ad analizzare nello specifico in queste piccole pillole piccine picciò quali sono quelle qualità che sicuramente chi fa danza può sviluppare molto più velocemente rispetto a una persona che non pratica la danza Inutile dirvelo la prima qualità mentale che il ballerino o l'appassionato di danza o il praticante di danza sviluppa è la memoria fin da piccoli si richiede di memorizzare delle piccole sequenze a livello proprio fisico o espressivo insomma musicale di vario genere quindi la memoria sicuramente è una qualità che se ben allenata comunque viene sviluppata anche molto velocemente poi c'è chi è più predisposto alla memoria chi meno ma tutti in e qual modo progrediscono in questo senso a livello mentale quindi la memoria è al primo posto di queste caratteristiche mentali che il ballerino può sviluppare un'altra qualità molto molto interessante che sicuramente un praticante di danza è costretto dagli eventi a sviluppare o perlomeno la gente che studia danza e che non ha a disposizione degli assistenti in questo senso adesso capirete è la manualità a partire dal pettinarsi, dal farsi il fatidico scignono alla fatidica coda al truccarsi per uno spettacolo, al cucire per appunto un costume, una divisa che si è rotta qualcosa del genere aggiustarsi con una scenografia piuttosto che un'altra, aggiustarsi il costume in un determinato modo insomma la manualità è una dote fondamentale per chi fa spettacolo in generale e in particolare per una ballerina o un ballerino che sicuramente a 360 gradi svilupperanno una grande manualità altra caratteristica forse un po' scontata che sviluppa un ballerino ma fondamentale è la coordinazione la coordinazione per quanto voi pensiate che sia una cosa prettamente fisica che in realtà è una cosa che parte dalla testa se uno riesce a coordinare nel suo cervello due movimenti sicuramente sarà più semplice coordinarli poi effettivamente in maniera fisica e quindi in maniera reale quindi non solo nella propria immaginazione di conseguenza la coordinazione è un'altra caratteristica mentale che viene sviluppata molto bene nella testa di un ballerino, di un praticante di danza ed è una cosa quantomai fondamentale per qualunque tipo di attività fisico-sportiva che si vada ad intraprendere altra caratteristica molto interessante al quale sicuramente voi non avete pensato è l'empatia si tratta di una caratteristica che sorge spontaneamente nel momento in cui si va a coordinare quindi torniamo al punto precedente non solo un individuo internamente ed esteriormente ma un gruppo vero e proprio quindi quando si lavora in gruppo quindi nella maggior parte delle realtà artistiche della danza si sviluppa una certa empatia se non altro pratica cosa vuol dire? l'empatia è questa capacità di entrare tra virgolette nello stato d'animo della persona che ci sta vicino a livello pratico questa cosa si sviluppa in maniera utile quando comunque si deve andare insieme quindi quando si deve sviluppare una certa sincronia sincronia che se non si riesce a coordinare il gruppo a livello proprio mentale e fisico non è possibile il fatto che magari la persona che coordina il gruppo quindi la persona designata per guidare tra virgolette il resto del gruppo verso la fine della nostra coreografia influenza particolarmente il gruppo anche per quanto riguarda lo stato d'animo se la persona che si trova davanti in mezzo è ansiosa di questa posizione sicuramente trasmetterà la stessa cosa anche a chi sta dietro di lei allo stesso modo invece se la persona che sceglie è grintosa sicura di sé che sa la coreografia sicuramente trasmetterà la stessa cosa anche inconsapevolmente senza esserne consci al resto del gruppo questa cosa è una cosa che viene in maniera naturale al quale ovviamente non si pensa ma che è reale io l'ho visto succedere quindi so per certo che è così se non altro si sviluppa in maniera pratica e conscia nel momento in cui si richiede di andare insieme alla data persona però questa cosa dell'emotività in realtà non viene considerata particolarmente quindi curiosità, pillolina per voi un'altra caratteristica che è mentale e fisica e pratica che sviluppa un praticante di danza è l'ordine appunto mentale e non mentale l'ordine per quanto riguarda la propria borsa, le proprie cose perché un ballerino ha sempre in testa che cosa gli serve, che cosa no per determinate lezioni ha la borsa più o meno sempre in ordine ho visto degli sfaceli ma faccio finta di non averli mai visti a livello mentale invece ha un preciso ordine di come vanno fatte le cose questa cosa poi si trasla nella vita normale, nella vita quotidiana in ultimo una caratteristica molto bella che sviluppa un praticante di danza è la comunicazione non verbale molto spesso ci ritroviamo a non sapere come comunicare un determinato stato d'animo un determinato messaggio, il ballerino impara a livello di espressività facciale, fisica ma anche ad associare una musica ad un determinato stato d'animo in questa maniera impara appunto a comunicare in maniera non verbale un proprio sentimento e sarà di conseguenza più sicuro nel comunicare le proprie emotività, le proprie insicurezze anche a parole e detto ciò ho finito il mio mini elenco, mini maxi elenco sul quale potete ragionare delle capacità mentali che vengono sviluppate da tutti i praticanti di danza fatemi sapere se ne ho dimenticata qualcuna qua sotto nei commenti quale vi ha incuriosito di più, quale approfondireste e via dicendo se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicino di supporto se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se volete supportarmi ulteriormente cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video noi ci vediamo il 29 di aprile con Gio Consiglia invece ci vediamo con il prossimo Danza con Gio il 3 di maggio un bacione e ci vediamo alla prossima Grazie a tutti